Tre novità di calcio mercato in quest'estate bollente 2023, ebbene, il Sassuolo ha annunciato l'acquisto di Boloca, il centrocampista arriva dal Frosinone in maniera definitiva, a cui andranno Rui e Marchizza. Per quanto riguarda il Napoli, torna il buon Gollini, il portiere sarà in prestito e corrupzione per il riscatto della Dall'Atalanta. Per quanto riguarda invece il Galatasaray, c'è stato l'annuncio di aver acquisito Angelinio, ripeto, Angelinio, esterno in arrivo dall'Ipsia attraverso i canali ufficiali. Va bene, queste sono le notizie più importanti e salienti di questo video di oggi. Tre, quindi, ripeto, e cioè, ufficialmente arriva a Boloca, al Sassuolo, torna Gollini a Napoli, e il Galatasaray si prende Angelinio, va bene, che arriva dall'Ipsia. Iscrivetevi, commentate. Ciao da Naro Doviteriano di YouTube Italia. Grazie a tutti.